Il santuario della Verna torna a riaprire le sue porte ai pellegrini, ad annunciarlo il padre guardiano Francesco Brasa. Dopo un lungo inverno, dopo l'esperienza del distanziamento, della chiusura e della solitudine, dopo l'esperienza dura della malattia... La Verna riapre le sue porte per riportare nel cuore di tutti, come otto secoli fa, nel cuore di San Francesco, la pace. Tornate, la Verna e i frati vi aspettano. Nelle scorse settimane al santuario si era acceso un focolaio che ne aveva determinato la chiusura. Adesso i 23 religiosi contagiati sono stati dichiarati guariti dal Covid e stanno lavorando allacremente per la ripartenza del santuario, tra loro anche il centenario padre Alessio. Gli altri 11 frati, ancora positivi ma in via di guarigione, vivono attualmente la loro quarantena, i spazi totalmente separati, attendono a breve la negativizzazione. Una ditta, infine, si sta occupando dell'igienizzazione dei locali del santuario e della foliesteria, in modo da poter consentire un accesso in piena sicurezza ai dipendenti e pellegrini. La riapertura degli spazi e di tutte le attività del santuario è quindi prevista per sabato, 15 maggio.